Applausi Si è svolto ieri a Dragoni il primo consiglio comunale dell'amministrazione d'Aloia dopo la schiacciante vittoria elettorale del 12 giugno. Nel corso dei lavori consigliari è stata ufficializzata la nuova giunta comunale con Gioele Micco, vice sindaco con delega al bilancio, tributi ed entrate extratributarie e Vincenzo Italiano, assessore con delega ad edilizia e istruzione. Presidente del Consiglio invece è stato eletta Maria Micco. Una seduta più che tranquilla con la minoranza che nelle brevi dichiarazioni del capogruppo Pierino Piucci si è detta attenta ma collaborativa. La neo sindaca D'Aloia dopo cinque anni di opposizione era visibilmente emozionata al primo incarico ma soprattutto per la vittoria plebiscitaria ottenuta. Sentiamola. L'emozione è stata fortissima perché come ho sempre detto questa è stata una vittoria della gente in cui ho creduto fin dall'inizio. Hanno premiato l'impegno e hanno voluto il cambiamento. Quindi è tutta una loro vittoria. Quale sarà il primo argomento che tratterà subito, che senti più a cuore? L'impegno preso, già detto in campagna elettorale, è quello sul surno crematorio. Quindi stiamo in questi giorni valutando al meglio. Quindi in aprile sarà data la risposta tanto attesa ai cittadini.